andiamo a tagliarlo questo video è stato gentilmente sponsorizzato da ERAB io ringrazio ERAB tutto l'anno perché mi aiuta a mantenermi idratata e a bere di più con gusto ma in questo periodo mi da anche un aiuto in più non so se abbiate già pensato ai regali di Natale ma io sono sicura che ci sia almeno una persona che sia parente, amico a cui non sapete mai mai cosa regalare ecco con ERAB non si sbaglia mai e si evitano anche regali imbarazzanti tra l'altro ci sono tantissimi pod fra cui scegliere perfetti per tutti i gusti e tantissime colorazioni quindi è perfetto per veramente qualsiasi età personalmente se dovresti fare un regalo a una come me io amerei questo modello perché è stupendo ed è anche termico vado a cambiare il pod e se dovessi dare un gusto a quest'anno al 2024 sceglierei questo se il 2024 dovesse essere un gusto sarebbe iuzu e rosmarino perché all'inizio non sai cosa aspettarti sei indeciso, non sei convinto però alla fine scopri che è buonissimo e che è anche quel brio in più ecco per me quest'anno è stato così un continuo buttarmi e sperimentare su cose per cui ero indecisa e per cui alla fine sono stata iper soddisfatta mettiamo il pod e assaggiamo esattamente il 2024 in occasione del Black Friday sul sito di ERAP ci sono tantissime offerte quindi vi consiglio di andare a vedere il loro sito che vi lascio giù in descrizione io ringrazio ancora ERAP di aver sponsorizzato questo video e ora passiamo al video ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi 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 torna la serie ti sfido a non dormire che è la il remake della challenge se ti addormenti perdi come al solito vi spiego un pochino come funziona sto usando il soft spoken sto usando il soft spoken solo per questa ultima questa prima parte del video poi passeremo un whispering e infine e infine a un in out tipo un passo 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 proprio verso la fine ok ok e per prima cosa per metterci un pochino nel mood andremo a fare un prelievo di pensieri un po' particolare un po' particolare perché te lo spoilerò poi i miei pensieri i tuoi pensieri sono qui e andiamo ad accendere un incenso ti farò ascoltare con i suoni ti farò ascoltare con i suoni stupendi super suboriferi a cui farei moooolta fatica a resistere e alla fine ti offrirò una tisana e mettendoti pian piano straiato straiato e leggeremo una storia della buonotte e faremo un piccolo countdown per dormire ok questo è il programma ti lascio tutto il minutaggio qui c'è in descrizione quindi io comincerei subito 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 subitissimo con il prelievo 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 dei pensieri liberi concentriamoci un bel respiro un bel respiro prima di iniziare come al solito ricorda di mettere un bel mi piace al video di lasciare un commento sulla tua parte preferita o in generale di lasciare un po' di supporto grazie se lo farai cominciamo con questo prelievo mi avvicino un pochino e prendo prendo e eccolo qua questo è il primo pensiero da tagliare e tagliare via osservalo quindi che adesso se ne andrà cominciamo a tagliarlo cominciamo sac 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 prendo ancora quello che c'è rimasto vengo proprio vicino vicino a te e zack zack perfetto e adesso prendo scretolo 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 e e soffio via e soffio via soffio via ok troviamone un altro troviamone un altro prendo 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 pluck 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 eccolo qua eccolo qua andiamo a tagliarlo e ancora vicino a te andiamo eccolo qua distruggiamolo e soffio via soffio via soffio via e soffio via soffio via ancora prendo 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 ok e adesso togli un po' più vicino perfetto e adesso scratulo 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 e via via soffio via e soffio via dimmi se ti è piaciuto questo prelevo un pochino diverso andiamo ancora a sciogliere leggermente un pochino i pensieri in modo che proprio tutta la tua mente sia pronta per il relax totale ok? quindi mi avvicino mi avvicino ti co 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 oggi ti ho portato una cosa un pochino diversa ecco qui questo praticamente è un porta incenso con dentro questa polverina che adesso andremo un attimo a sistemare e qui poi metterò c'è dentro un bastoncino dell'incenso prendiamo andiamo quindi a metterlo a posto e andiamo a mettere nel mezzo questo piccolo porta incenso in qui qui andrà infilato il bastoncino di incenso vediamo se riesco a farvelo vedere ok ecco sto lo vediamo qui in mezzo e qui tutto abbinato oggi abbiamo i bastoncini di incenso eccoli qua andiamo a prenderne uno mettiamolo qui ok e andiamo ad accenderlo ok eccolo qua questo si spegnerà e comincerà a diffondersi l'aroma e pian piano l'incenso e questo lo vado a mettere lì e pian piano l'incenso ed il fumo spero tu riesca a vederlo pian piano l'anno dell'incenso si difonderà per tutta la stanza proprio qui siamo decisamente pronti per i suoni per te adesso ho pensato ai lead sounds suoni di brattoli suoni di coperchi ne ho tre cominciamo da questo che dovrebbe essere più particolare questo è uno scrub labbra e ho messo un po' di scrub qui sul contorno della chiusura così avrebbe fatto questo suono crunchy schifo 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 un po' di più lì temi se vede a tutti i miei da ciao poi ho preso questa crema solare sono molto diversi sentite? perché ho preso tantissime cose pirate sì 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 un po' di più Grazie a tutti Grazie a tutti e terza proposta un lead sound anche questo completamente diverso grazie piace un pochino di meno quindi lo vado a durare un po' di meno e come secondo suono prima della tisana e della storia della panotte è la carta scricchialante la carta scricchialante spiegelante 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 Questa Grazie a tutti. Il terzo è forse il più bello ed è si chiama carta di riso. Grazie a tutti. 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 Hanno sapore a te. E andiamo a metterla di sano in questa tazza stupenda. Ormai sta arrivando a Natale. Noi abbiamo già fatto l'albio ed è una tazza di mercatino di Natale a forma di scarponcino. E' tipo la cosa più carina. che abbiamo mai visto. e sopra c'è... questo schloss per il mercatino. dove c'è... a Vienna e c'è un albero di Natale, il per vedere il palazzo, un altro alberino e i mercatini di Natale sopra, troppo troppo bello, ecco a te e serviti pure con l'acqua, è arrivato quel momento, vieni qui, passiamo un pochino, ecco qua, avvicinati e stenditi piano piano piano, ecco di qui, ecco di qui, ecco di qui, prendo il libro che ho conservato per stasera, se ti va va bene, vuole leggerti questo Winnie the Pooh, Winnie Winnie the Pooh e gli velanti Baby Winnie e velanti ok te lo leggo e ti faccio vedere pian piano le immagini, un mattino un suono fortissimo sveglia gli abitanti del bosco dei Centoacri, Pooh si spaventa tanto che cade dal letto, ma che cosa mai sarà stato e anche mamma Kangoo e il piccolo Ro l'hanno sentito sembrava una tromba e dalla finestra vedono tigre e bimbi che corrono preoccupati bimbi che cade dal letto bimbi che cade dal letto Ro li accompagna da Tappo perché vogliono raccontargli quello che hanno sentito e dopo averli ascoltati il coniglio decide di fare un giro e presto scoprono che c'è un'impronta enorme è l'impronta di un effelante spiega Tappo ed è un animale grande e spaventoso gli amici organizzano una missione per catturare degli effelanti i.o. portano un sacco di cose che potrebbero servire per la caccia ma tutto è una gran FIFA solo Ro decide di non partecipare alla spedizione perché Tappo gli ha detto che è troppo piccolo e l'evelante è troppo pericoloso ma il cangurino decide di cercarlo da solo è proprio Ro il primo a trovare l'evelante si chiama Envy ed è un cucciolo non sembra affatto spaventoso però Ro non vuole farvelo scappare Ro mette al guinzaglio Envy che in realtà è un giugarellone e non sembra prendersela d'altro canto Po e Pimpi sono sicuri di aver trovato il nascondiglio delle felante e lanciano una corda ma l'orsetto si è sbagliato ha catturato Tigro e Pimpi con la sua reticella ha preso Tappo che non sembra averla presa particolarmente bene no Tappo non sembra proprio di buon umore insomma hanno fatto tutti una gran confusione in quel momento Ro il piccolo canguro decide di portare Effi a casa perché gli vuole far conoscere gli altri però le felante ha paura perché non li conosce e finalmente Ro comincia Effi a seguirlo e aspettando i loro amici che devono ritornare i due fanno merenda nell'orto di Tappo Tappo sarà potentissimo e poi vanno a giocare quando Tigro Pimpi Pue Tappo arrivano nell'orto vedono le carote strappate le angure rosicchiate sono stati gli effelanti grida Tappo presto costruiamo delle trappole sono tutti sono tutti 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 disperati per le condizioni dell'orto ed Effi finisce proprio in una di quelle trappole si sente tanto triste mentre Ro cerca di liberarlo con tutte le sue forze Ro riesce finalmente a liberare la trampola che circonda Effi e il cucciolo abbraccia ora si che sono davvero grandi amici ma Tappo e gli altri non sanno che Effi è buono e simpatico e lo catturano di nuovo con le corde e il piccolo poverino indietreggia spaventato così Effi non si accorge che dietro di lui c'è un burrone Ro cerca di fermarlo ma cade al suo posto e resta intrappolato in un munchio di tronchi Effi è preoccupato non lo vede neanche ma sa già cosa fare con la proposcide lancia un richiamo alla sua mamma che subito gli risponde ecco questo era uno strano suono che aveva svegliato tutti il verso di Nefelante mamma e Felante arriva di corsa sposta i tronchi che impregionano Ro e lo affida sano e salvo a mamma Kangoo alla fine tutti hanno capito che gli Effelanti sono buoni e gentili e che è bellissimo giocare con loro bellissimo questa strana l'avevo mai letta dolcissima e da piangere vediamo via vi è piaciuta la storia? spero davvero di si vediamo via vi è piaciuta la storia? se non vai il countdown da 10 a 0 a abbassare la voce e poi abbassare le luci e a dartela buona 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 notte ok? ok 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 lascia ti aggarezzare lascia ti aggarezzare lascia ti lascia ti lascio di aggarezzare e cominciamo con dieci nove otto sette 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 cinque 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 quattro 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 uno zero zero uno 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 proprio si aggiunta allora appassare 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 le luci le luci e augurati augurati augurare ad 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 buona buonanotte 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 buonanbuonanotte sui 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 su Buonanotte Buonanotte Con tutti i sogni Buonanotte vedete sciogliere contenate con le canoste con le canoste guardate con i pasticcini e l'abracola un bacione un bacione che le spera